Sottosegretario della Presidenza Minniti, sappiamo che la prossima settimana sarà in aula il Ministro Gentiloni per riferire, ma noi crediamo che, visti i fatti che sono accaduti nelle ultime ore, sia urgentissima l'informativa da parte del Governo e noi chiediamo e ci associamo alla richiesta di quei partiti che hanno chiesto che il Ministro Gentiloni venga immediatamente in aula a riferire sulla situazione libica. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi. Tengo soltanto a precisare che la Presidenza della Camera sta seguendo con trepidazione il susseguirsi di notizie. È chiaro che non esprimiamo alcuna condoglianza ancora, speriamo di non doverle esprimere perché i fatti sono ancora in evoluzione. Io ho qui il comunicato della Farnesina che parla di forse due connazionali uccisi, quindi rinviamo qualsiasi altro commento per una questione di opportunità e rispetto a notizie certe. Segnalerò comunque le vostre richieste alla Presidenza della Camera in merito alla convocazione del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro della Difesa. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto, ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione per parti separati della risoluzione Catania, Cenni, Russo, Carofalo, Pastorelli, Franco Bordo ed altri numero 6.212, nel senso di votare distintamente la premessa, la prima parte del dispositivo con la quale si fa proprio alla relazione predisposta alla Commissione d'Inchiesta e la seconda parte del dispositivo che rega l'impegno al Governo. Costituendo la premessa un elemento complementare ed accessorio rispetto al dispositivo procederemo, come avete visto ultimamente, da prima la votazione delle due parti del dispositivo e successivamente, solo nel caso in cui il dispositivo risulti in tutto e in parte approvato, alla votazione della premessa. Quindi pongo in votazione la prima parte del dispositivo su cui il Governo ha spesso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Folino. Lavagno, Palmieri, Ribaudo, Zan, Tentori, Venitelli, per favore recatevi al posto velocemente, Iori. Qualcun altro? Catalano. Chi altro non riesce a votare? O sta andando a votare? Capone. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. No, Capone ancora no. Adesso, votato, dichiaro chiusa la votazione. 362 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Pongo a questo punto in votazione la seconda parte del dispositivo su cui il Governo ha spesso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Folino. Chi altro? Furnari. Labriola. Qualcun altro non riesce a votare? non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 358 favorevoli, 56 contrari, la Camera approva. Pongo infine in votazione la premessa della risoluzione su cui il Governo ha spesso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Dall'Ai. Valente Simone. Qualcun altro? Non mi pare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 416 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. L'ordine del giorno rega la discussione del testo unificato e le proposte di legge numero 75 241 811 27 26 A. Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Avverto che lo schema recante della ripartizione di tempi in distribuzione sarà pubblicato in calcio al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Attività Produttive si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire la relatrice deputata Chiara Scuvera. Chiedo ai colleghi di tenere basso il tono della voce, per favore. Grazie Presidente. Oggi arriva in aula la prima legge nazionale sul commercio equo e solidale. una legge nazionale sul commercio equo e solidale.